Una meta e due calci piazzati non sono stati sufficienti al Rugby Lucca per battere il Rugby Mugello. Al Bernardo Romei la squadra lucchese è stata infatti sconfitta, terza battuta d'arresto consecutiva, 21-13 da un contando perlomeno arrembante. Partita davvero intensa e dispendiosa anche dal punto di vista fisico. Il Rugby Lucca, allenato da Coccia Sediani, ha tenuto bene per 40 minuti, andando a riposo dopo il primo tempo in vantaggio grazie ad una meta del giovane Matteo Marzona, trasformata da Pierpaolo Bogliolo. La seconda metà della partita però ha visto il Mugello riacciuffare subito il risultato. Dopo due mete trasformate, il punto esclamativo sulla gara, gli ospiti lo hanno messo a pochi minuti dal fischio finale, con la terza segnatura da parte del contando, anche questa trasformata. Una sconfitta che sicuramente ridimensiona al momento le ambizioni della formazione lucchese, che adesso osserverà un turno di riposo nel prossimo weekend e tornerà in campo domenica 5 dicembre alle 14.30 al Castellani di Cecina.